La filosofia della scienza Benvenuti a tutti. Questo è il mio lavoro, trattando la filosofia della scienza, che è l'epistemologia, mentre riordere tutto quello che in fisica è relativo e l'absoluto, la velocità e ogni fisica costante, anche risponde su quello che sembra che sia impossibile di sapere, in questione come la famosa «Who am I?», «Where am I going?», «Where am I coming from?», o «In the true problems about the truth essence?», e così on. Molte di queste sono domande filosofiche e argomenti generalmente pensate senza una risposta possibile razionale, ma che, trattati sui amici scientifici già conosciuti, permettono la grande sorpresa e la gioia di derivare delle risposte molto importanti e raramente nuove risposte, risposte, assolutamente unexpected, avere il stesso valore e gradino di sicurezza che la verità originale. Precisamente il popolo John Paul II, credendo in l'absoluto necessità di queste nuove risposte fondamentale e del loro risposte della verità, e le esteri sulle esperienze storiche, imparate per tutti i filosofi, lottaliowano lì, per chiedere e lo potezionare, perché, in lo popolo, sottopoposche, sarebbe sicuramente stato un complice di Gesù, come la sua es confidente, in realtà il Gesù, Qui c'è il primo risultato importante. Un'affirmazione di Jesus può essere certificato e finalmente accettato in tutto il mondo, quando ho usato, per provare e certificare, altri principi fondamentali, e non solo la sua autologia. In altre parole, quando ho usato il principio fondamentale dinamico, ho potuto mostrare perché la morte non è il fine reale del mio spirito umano. Da che ho già ritornato dal mio punto di morte, io sarò un risurrecto. Il primo principio fondamentale del DYNAMIC LOVE, known-how action and reaction, states that every action is visibile always and only through the equal and contrary action. So, I no more considering the Jesus authority but only this dynamic principless authority, I can affirm that also my spiritual action, that of my real spiritual observation, is visible always and only through the equal and contrary material action. through the material action of my body, directed towards the corporeal death, I have the true proof of my true but invisible spiritual action, my rarely already happened return from the erroneously believed mortal point, till at this point of present time. I am in the way of a resurrected soul, because my spirit did not advance any more with my body, when this had no more the necessary valid circuits to permit again the electric fluid, the electric fluid flux of the spiritual existence in that direction of the time. therefore, how if this interruption was a perfect mirror, the electric spirit, being an immortal energy, was reflected, was compelled to assume the magnetic form that advances properly the turning, of how the same antimatter does, and the new corporal form was made but by the antimatter mass. Responding to Nicodemo, who had asked him the way towards the heaven, in St. John 3.1, the Jesus authority already had declared this same active-reactive, or up-and-down complexity, saying it in this way, before you have to see yourself descending from the Shig, to can go into the heaven, because two are the life movements, that of the water the Ankh, perceived through the Holy Spirit, having the opposite movements. on the basis of this new true absumption, that precisely confirm that transcendence of the Christ, not well intended till now about the transcendent life of the Holy Spirit, our life is a complex movement in the space-time. Consequently, it appears real by the imaginary action, it appears a positive going on by the negative returning from, it appears material by the antimatter action, it appears electric by the magnetic action, it appears present in real action by the poor and potential existence. So, we understand that we advance in the space-time just how we work. We can advance one foot through the real support on the other. Ok, to can perceive real advancements in the space-time, bringing us toward our real death, the support that now we are using is that of alive truly returning from the death. our soul truly returns in the imaginary direction, negative one, magnetic one and antimatter one. So, by the negative, ideal support, we can really see, by positive reaction, not the returning of the spirit, but the advancement of our matter-body, that is, of what is contrary to the Holy Spirit. And, being contrary, does not show directly the truth of the soul returning, but makes it only through the opposite of the opposite, that indicates exactly the same and not the opposite one.